La mia azienda nasce 20 anni fa a Roma e la si è sempre contraddistinta per la ricerca continua di nuovi brand e nuove compagnie da poter proporre al nostro pubblico. Dopo 20 anni di esperienza in Italia abbiamo deciso quattro anni fa di aprire in questo nuovo concept il Bikini Berlin questa nuova attività con tutti i prodotti made in Italy e tra i vari marchi che noi produciamo c'è anche Dissolve the Lab che fa un prodotto di ricerca dove ci sono tutti i prodotti fatti esclusivamente in Italia con tessuti organici di buona qualità.